Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video relativo all'apprendimento scolastico. Allora, come premessa, va detto che questo video ha un taglio specifico, diciamo, anche per prepararsi al concorso TFA per questo ciclo. Allora, cominciamo col dire che lo sviluppo del linguaggio, di solito, è su base innata e spontanea, e quindi l'acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo richiede uno sforzo intenzionale da parte dello studente. Quindi ne consegue che queste abilità, quindi lettura, scrittura e calcolo, vengono apprese gradualmente dietro l'insegnamento. E quindi l'acquisizione di tali abilità necessita di anche un substrato di competenze sensoriali, motorie e cognitive che costituiscono i prerequisiti. E spesso gli studenti che hanno avuto problematiche connesse nei processi di scrittura hanno già sperimentato difficoltà nell'acquisizione della lettura. E per questo motivo si parla spesso, nella letteratura scientifica, di processi di letto-scrittura. Inoltre, il linguaggio è lo strumento attraverso il quale i suoni, combinati in base a regole culturalmente definite, veicolano contenuti e messaggi. Quindi questa è la definizione di linguaggio. In realtà anche i pappagalli possono riprodurre correttamente i suoni di alcune parole della nostra lingua, ma non si può parlare di linguaggio in questo caso, perché nell'uso che questi animali ne fanno mancano i due aspetti fondamentali, che sono la funzione comunicativa e la funzione simbolica. La funzione comunicativa indica l'intenzionalità che deve esserci affinché venga trasmesso un preciso significato, in base alla quale vengono ordinatamente combinati i suoni della lingua. Mentre la funzione simbolica indica il potere rappresentativo della parola, che si sostituisce all'oggetto che si vuole indicare permettendo di rappresentare anche situazioni non presenti o permettendo di rappresentare ciò che è inosservabile relativamente a un mondo psico-emotivo. Età evolutiva, relativamente all'età evolutiva, lo sviluppo della comprensione verbale, e quindi capire il significato dei suoni, precede lo sviluppo delle abilità espressive, che consistono nel produrre correttamente i suoni della lingua. Quindi quando il bambino inizia ad esprimersi, sono più i suoni che conosce che quelli che riesce a riprodurre. Non tutto ciò che si conosce si riesce a riprodurre. La comprensione orale si fonda sulla capacità di discriminare suoni e attribuire loro un senso. Il codice di suoni linguistici, a cui si è sostoposti fin dalla nascita, varia in funzione dei contesti culturali e a volte delle classi sociali di appartenenza. Ad esempio, bambini esposti più ai suoni del proprio deletto, che non a quelli della lingua italiana, possono riscontrare difficoltà nella produzione dei suoni della lingua italiana. Questo è fattore di variabilità soggettiva, del quale occorre tener conto durante un'eventuale valutazione. Lo sviluppo della competenza linguistica, ossia del produrre messaggi con scopo comunicativo, e della competenza comunicativa, saper usare gli strumenti linguistici in maniera intenzionale per trasmettere un messaggio, sono acquisizioni fondamentali per l'apprendimento scolastico. Le conoscenze linguistiche apprese in età prescolate influenzano modalità ed efficienza dell'apprendimento. Vi do qualche referenza bibliografica. Per questo, le attività di supporto allo sviluppo del linguaggio, svolte durante la scuola dell'infanzia, giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione delle difficoltà di apprendimento. Ricordiamoci sempre che un bambino con capacità di linguaggio significativamente al di sotto di quelle attese per età, quindi non attribuibile a compromissioni dell'udito, o ad alta compromissione sensoriale, o a disfunzione motorica, o ad altre condizioni mediche o neurologiche, e non meglio spiegato da disabilità intellettiva o ritardo globale dello sviluppo, deve essere sottoposto ad accertamenti per valutare l'eventuale presenza di un disturbo del linguaggio. Benissimo, io preferisco fare questa prima parte, desidero avere un vostro feedback relativamente a questo video, ed eventualmente poi continuerò con la trattazione di questa tematica. Io per ora ringrazio tutti, vi auguro un caro saluto e buona continuazione di giornata.